Del Duca, stadio tabù per i colori biancazzurri. Nelle ultime 13 sfide, 10 sconfitte, due pareggi e una sola vittoria. Cominciamo dal campionato 1985-86, primo dicembre 1985, Ascoli batte Pescara 2-0, 61esimo, incocciati. Grande azione personale dall'attaccante dell'Epoca dell'Ascoli, Beppe, incocciati. Tra poco vedremo anche il raddoppio. Eccolo qui, il raddoppio firmato da Vincenzi, una difesa rivedibile, l'allenatore di quel Pescara era il compianto Enrico Catuzzi, stagione 1985-86. La curva dell'Ascoli, Serie A, l'unica vittoria dall'85-86, firmata primo Berlinghieri. Calcio di punizione di Leo Junior, era il 6 novembre 1988. Pagano dentro per il taglio splendido di primo Berlinghieri, che riesce così ad infilare il portiere dell'Ascoli, di quel campionato Pazzagli. Dunque, Ascoli 0-1, era il 6 novembre 1988. Campionato di Serie A, poi il Pescara retrocesse al termine di quella stagione. Serie B, 18 dicembre 1994. Ascoli batte Pescara 3-0. Il primo gol, stiamo per vedere, di incocciati. Sempre lui, palleggio, controllo e gran destro all'incrocio dei pali alla sinistra di Cusin. Il portiere della Pescara, allenato in quel momento da Franco Oddo, che aveva sostituito a Giorgio Rumignani il raddoppio del tedesco Birov. Il Tris, firmato invece, realizzato da Menolascina. Errore di Farris, che non aggancia, ne approfitta Menolascina. Dunque, Ascoli batte Pescara 3-0. Serie C, 17 marzo 2002. Ascoli batte Pescara. L'Ascoli di Pilon, 3-2. La prima rete, la rete che sblocca il punteggio dell'Aquilano di Venanzio. Un gran sinistro. Poi il raddoppio biancone, che l'anno successivo vestirà la casacca biancazzurra, vincendo il campionato di C1 con Ivo Iaconi. Cecere fa quel che può, è il destro di Montesanto. Dunque, Ascoli 2-2. Pescara 0-0. Accorcia, però, Ottavio Palladini. Stiamo per vedere la perla di Ottavio Palladini. Un grandissimo gol. Nulla da fare per il portiere Indiveri. Pareggia Fanesi su calcio di rigore. Sempre nel primo tempo spiazza il portiere dell'Ascoli Indiveri. Ma nella ripresa ci sarà il definitivo sorpasso dell'Ascoli di Bepi Pilon, che poi vincerà il campionato di C1. Palla respinta dalla traversa e poi il gol dell'Ascoli. Firmato in realtà da Biancone, il cross era di Di Venanzio. Serie B, 20 settembre 2003. Abbiamo visto il primo gol. La prima rete di Pia, il brasiliano che militava nell'Ascoli in quella stagione. Poi Antonelli, il pescarese Filippo Agomeri e Antonelli. Una grande accelerazione e l'assist sempre per Pia. 2-0 nel finale. Un gol più trovato che cercato di Ottavio Palladini. Finirà 2-1 per l'Ascoli. Era il campionato di Serie B 2003-2004. Sempre in Serie B. L'anno successivo viene espulso ad Ascoli Cudini, l'attuale allenatore del notaresco, che placca varricchio lanciato verso la porta bianconera. Malgrado l'inferiorità numerica, l'Ascoli riuscirà ad imporsi con un gran gol di Filippo Agomeri e Antonelli, che poi nel 2006-2007 vestirà la casacca del Pescara. Gran diagonale senza esultanza da parte di Filippo Antonelli, attuale DS del Monza. Il portiere del Pescara era Pierluigi Brivio, qui intervistato nel post partita.